5 anni non sono nulla, eppure è successo di tutto. È successo con sito fra tanti e è diventato un punto di riferimento per molti. Il 2014 ha segnato una serie di eventi veramente speciali per Soundwall, per questi nostri primi 5 anni. Abbiamo collaborato quotidianamente, spesso a distanza, con le realtà che più hanno fatto e stanno facendo per rendere appassionante e dispessore ciò di cui ci occupiamo ogni giorno. Abbiamo girato l'Italia, festeggiato con Spring Attitude, Dance, The Robot Festival e Club to Club. Insieme abbiamo presentato artisti, stretto collaborazioni specifiche, invitando grazie a loro migliaia di persone alla festa. Ma il quinto compleanno, giustamente, chiama un quinto appuntamento. Un progetto che abbiamo sviluppato in questi mesi, due giorni in cui Soundwall si mostra e si racconta a 360 gradi, per quello che è stato, per quello che è e per quello che sarà. Abbiamo lavorato ininterrottamente per cercare le location più belle, scegliere artisti di grande valore e consapevolezza, persone splendide che riuscissero a raccontare veramente al meglio il nostro amato superandi, le nostre radici personali, le nostre passioni. Una a due giorni di cui andiamo molto orgogliosi, due giorni per raccogliere nuove idee, immaginare nuove energie e nuove visioni. Perché stiamo già lavorando per i prossimi cinque anni. Cinque nuovi anni in cui vogliamo far succedere molte cose. Grazie a tutti. Grazie a tutti.